Buongiorno signori, come state? In realtà per voi è una buona sera perché vedrete questo video la sera. Come state? Spero bene. Siccome sto impostando il divanetto come una sorta di chiacchierata tra amici quando ci si incontra e si parla di svariati argomenti e voglio che questa cosa entri nella testa delle persone, con questa sottocategoria del divanetto nella quale parlo delle mie settimane di approccio ad un videogioco, voglio anche un attimino sconfiggere questa situazione di disagio che stiamo vivendo dalla quarantena e soprattutto far vedere come nonostante tutto noi possiamo divertirci in casa, noi possiamo fare qualcosa non perdendo dell'intrattenimento. E tra le tante cose, tornando sul nostro filone di pensiero, c'è stato lui, il remake di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu. Come per Zelda l'ho giocato per una settimana circa, non l'ho finito, sono poco prima di Groudon per chi ha giocato il gioco e quindi quest'oggi ve ne parlerò un pochino. Come per il video di Zelda, senza dare dei pareri strutturati, fornendovi quella che è stata la mia impressione del gioco e un paio di considerazioni che mi sono venute in mente nel mentre. Non so se è chiaro che questo video non vuole esprimere la verità, perché per il video di Zelda, a giudicare da certi messaggi, non è stato chiaro. Però, clip grazie. Ma il discorso di questo video, l'incipit di questo video, se vogliamo, è parlarvi di Zelda Breath of the Wild, della mia esperienza di una settimana su questo gioco, DA COMPLETO IGNORANTE. Da fan Pokémon. Ma soprattutto da COMPLETO IGNORANTE. Ecco... Mi sembra chiaro, no? Prima però di iniziare, oltre a invitarvi alle solite cose, il like, il commento, il sostegno al canale, voglio annunciare, finalmente, dopo essermi dimenticato, il vincitore del contest del primo divanetto che mettiamo qui in editing, che è... Non hai un nome facile. Pio Quello Vero, che tra l'altro mi segue anche su Twitch, vi invito a passare da Twitch, anche perché lui ha fatto questo disegno, che ho trovato molto interessante, perché tra tutti avete fatto tutti degli ottimi lavori, anche delle cose originali. Questo è stato, secondo me, il disegno che si è avvicinato di più a un Pokémon. L'idea dei coltelli anche volanti mi è piaciuta tantissimo, si coniuga benissimo con il tipo spettro, il design è davvero bello, mi ricorda quasi un bronzong, però vi invito a passare da Twitch, perché non escludo, e mi piacerebbe tanto organizzare qualcosa del genere, di fare una stream, che è il luogo migliore per parlarne, nel quale commentare tutti i disegni che mi sono arrivati. Detto questo, torniamo ai nostri eroi. Tra l'altro, io vi farei vedere brevemente in telecamera, vi farei vedere quanto è bella la copertina. Quanto è bella la copertina, ma anche quanto è bello l'interno. Ah sì, perdonatemi, dentro c'è Zelda, perché l'ho sostituito. È davvero bellissima con tutte le espressioni dei popolo, un GG. In ogni caso, non stiamo qui a parlare della copertina, ma del gioco. Che vi dirò, ragazzi? Io ero partito con tantissimi pregiudizi. Perché è vero, Mystery Dungeon è stato il gioco della mia infanzia, probabilmente, e mi ha segnato molto più, se devo essere onesto, dei giochi della serie principale. D'altro canto, i miei pregiudizi si basavano sul fatto che me lo ricordo, Mystery Dungeon, e gli ultimi Mystery Dungeon non mi sono piaciuti. E in realtà non è nemmeno vero dire che non mi sono piaciuti, non mi hanno preso. Ma quali erano questi miei pregiudizi? I pregiudizi si basavano principalmente sul lato del gameplay. Ero abbastanza convinto che, a distanza di tanti anni, il gameplay di Poco Mystery Dungeon mi sarebbe risultato molto monotono. Perché ero partito con il preconcetto che alla fin fine, per quanto riguarda il dungeon, si trattasse di attaccare il Poco 1 e di avere tendenzialmente la vita facile. Tra l'altro, il gioco è stato facilitato, assegnando ai Poco 1 delle mosse tendenzialmente più forti. E quindi sì, ero partito con un sacco di pregiudizi. Vi dirò, smentiti. Non ho trovato il gioco difficilissimo, ma ho trovato il gioco facile nella misura in cui uno si prepara le sfide. Il che è possibile da fare solo con i boss, con cui di fatto non ho mai avuto dei reali problemi. Ma ad esempio, all'interno di un dungeon, con dei Poco 1 specifici, e c'è anche questo punto da chiarire, l'ho trovato difficile. Ho trovato difficile uscire da un dungeon, esplorarlo tutto, senza dover ricorrere a strumenti, senza vedere i miei Poco 1 andare a po', senza utilizzare le gravel rocce, le spine, e tutti quegli strumenti che sono utili nel momento in cui il tuo Poco 1, ad esempio, non può attaccare. Ribadisco, non è stato un gioco difficile, per quanto mi riguarda, ma un gioco che mi ha richiesto di concentrarmi in determinati frangenti. Perché in realtà, ed è questo il punto a cui volevo arrivare, Poco 1 Mister in Dungeon è un gioco la cui difficoltà è troppo relativa. Banalmente a partire dalla scelta dei Pokémon, ragazzi. Ad esempio, il dungeon in cui ho avuto più difficoltà è stata la Grotta Turchina in quel frangente di gameplay all'interno del quale... Non famo spoiler. Insomma, in questo dungeon, che si chiama Grotta Turchina, ragazzi, io non avevo rivita da seme, perché c'è un punto all'interno del gioco nel quale effettivamente non puoi reperirti con facilità gli strumenti. Chi l'ha giocato lo saprà, chi non l'ha giocato, nel caso lo voglia giocare, lo scoprirà. Trovandomi senza strumenti, con il mio compagno, che era uno Psyduck KO, io avevo Bulbasaur. Ragazzi, io ovviamente ho fatto il test e ho preso il Pokémon che mi è uscito, non sono andato a scegliere almeno uno casuale. Perché? Perché mi sembrava molto più coerente con la logica del gioco. Beh, è stato di fatto che in quel momento io con Bulbasaur da solo ho dovuto tarare attentamente tutte le mosse, quindi utilizzare i sonniferi nel punto giusto, pregare che entrassero, perché c'erano i Golbat che mi aprivano. Io non potevo fare niente contro quei Pokémon. Quindi io per la combo che ho avuto di Pokémon, che comunque sono stati ottimi ragazzi, Psyduck a Antimeteo, ogni volta che c'era la grandina e la tempesta, come se non fosse nulla. Quindi non è vero che era scarso. E Bulbasaur aveva sonnifero, quindi era una carta vincente contro i boss. Fino adesso io non ho perso una battaglia con i boss, perché li metto a dormire. È ovvio però che una persona che magari ha scelto un determinato Pokémon potrebbe avere meno difficoltà nella grotta turchina e più, che ne so, sul Monte Vampa. Un'altra cosa fantastica ragazzi, sono le mosse combinate, che con la lucidità di un ventenne, a discapito di quella di un ragazzo di dieci anni quale ero ai tempi che giocavo Mystery Dungeon e che magari combinava la mossa frustata più foglie lama per averla mossa fortissima, mi hanno portato le mosse combinate a ragionare su determinate situazioni. Quindi io combino crescita più semibomba per far sì che il mio semibomba parta con un output di danni maggiore. Addirittura con Psyduck mi sono ingegnato per fare la combinazione inibitore-cozzata-zen. Considerato che Psyduck è abbastanza lento, inibitore bloccava la mossa precedentemente usata e cozzata-zen faceva dei danni, portando il Pokémon a dover cambiare mossa e magari non utilizzare quella super efficace su Psyduck. L'intrattenimento l'ho trovato quasi più fuori dai dungeon nel prepararmi al dungeon che nel dungeon stesso, dove effettivamente ripeti delle azioni meccaniche. Ma sono azioni meccaniche che io personalmente ho studiato e che quindi mi hanno appagato. Poi c'è da dire a discapito di questo gioco che è troppo simile all'originale. L'originale, ragazzi, era bellissimo. Conseguentemente ho apprezzato anche questo gioco, però forse ha troppo voluto ricalcare. Se non sullo stile grafico, che è interessante, non dico di averlo apprezzato, ma è interessante lo stile grafico che hanno dato al gioco, quasi come se fosse un libro per bambini. In realtà l'ho apprezzato tutto sommato. Ci sono anche delle cutscene ben elaborate e con quella grafica era difficile fare delle cutscene ben elaborate, però ad esempio una cosa che non ho apprezzato è il fatto che le musiche fossero riproduzioni fedelissime dell'originale. Poi ragazzi, le musiche di Mystery Dungeon ci puccio il biscotto e me lo mangio, cioè sono fantastiche, con quei cori eccezionali, però magari modificarle per un titolo per Switch non avrebbe fatto male, avrebbe dato un tocco di novità in più. È il discorso per il quale non metto in dubbio che la team di Amarantopoli di seconda generazione sia bella, ma il remake di quarta forse lo è ancora di più. Non spendo neanche parole ragazzi sul postgame perché non l'ho giocato. So che il postgame di Mystery Dungeon è infinito, quindi mi preparo psicologicamente, quella parte sarà eccezionale. C'è da dire che il gioco, nonostante mi sia piaciuto particolarmente, nonostante comunque nella sua grafica molto fiabesca riuscisse secondo me a dare un tono veramente importante ai personaggi importanti, penso ad Alakazam, che secondo me è efficacissimo nella sua presentazione, C'è da dire, vi dicevo, che forse 60 euro, anche no. Ma per il fatto che è molto simile all'originale, a parte il comparto grafico, di fatto io credo non aggiunga nulla. Però parliamo di minuzie che sinceramente reputo poco interessanti. Quello che è interessante è il titolo di questo video, che voi vedete e che avrà baitato forse un po' di voi, perché sì, dopo aver giocato questo titolo io mi sono accorto del perché personalmente io ritengo a Pokémon Mystery Dungeon lo spin-off Pokémon più bello. Più bello chiaramente per me, ma se dovessi parlare per voi, quindi se dovessi dare un parere oggettivo, lo spin-off Pokémon più interessante. Ed è interessante più degli altri, più di Pokémon Ranger, più di Battle Revolution, che comunque sono bellissimi e sicuramente superano Mystery Dungeon a livello di gameplay, per il fatto che Mystery Dungeon pone al centro i Pokémon. Il significato di spin-off, a livello televisivo, ma si può anche associare a livello videoludico, è quello di una serie videoludica all'interno della quale il personaggio principale ha svolto dei ruoli secondari in quella che è invece la serie principale. E volendoci riflettere su Pokémon Ranger, Pokémon Revolution, non fanno questo, perché i protagonisti sono dei personaggi che non abbiamo mai visto, cioè i Ranger. Non che io mi stia ovviamente spingendo a dire che Pokémon Ranger e Pokémon Battle Revolution e che tutti gli altri non siano degli spin-off. No, cioè, non è questo il discorso. Sto dicendo che se ci atteniamo alla definizione di spin-off, io credo che Pokémon Mystery Dungeon sia il più riuscito, perché di fatto nei giochi Pokémon i Pokémon sono sempre secondari a livello di trama. Pensateci, in quale gioco Pokémon la trama è guidata da un Pokémon, dalle scelte di un Pokémon. Nessuno, le scelte sono sempre degli umani e i Pokémon sono una caratteristica del mondo che a queste scelte si associa. Pokémon Mystery Dungeon è in grado invece di dare spessore a dei Pokémon che sono sempre stati secondari. Ninetales, Gardevoir, Xatu, Whiskash, non me ne vengono altri però potrei andare avanti per ore. Mystery Dungeon fa quello che secondo me dovrebbe provare a fare anche la serie principale di Pokémon, cioè mettere al centro i Pokémon. Perché ogni Pokémon ha delle caratteristiche che se sviluppate in degli eventi gli danno una giustizia incredibile. Ninetales in Pokémon Mystery Dungeon è trattato divinamente ed è associato perfettamente alla storia di Gardevoir quindi questa è una cosa che se hanno fatto su Pokémon Mystery Dungeon potrebbero fare sui giochi Pokémon principali ma non la fanno perché Mystery Dungeon è lo spin-off di quello che i giochi principali mai sviluppano. Mentre Pokémon Ranger e tutti gli altri per quanto bellissimi sono proprio un discorso a parte con altri personaggi che si pongono al centro della trama e non lasciano spazio ai Pokémon per esprimersi. Su questo canale l'ho detto più volte la forza dei Pokémon sono i Pokémon sfruttiamoli. Perché non è solo il poter essere un Pokémon il punto di forza di Mystery Dungeon ma è anche il confrontarti con i Pokémon che gli dà spessore. Bona io credo di aver detto tutto su Mystery Dungeon in realtà questa riflessione sul fatto che Mystery Dungeon sia il migliore spin-off la volevo portare in un altro video però ho ritenuto di farlo qui perché sono effettivamente le impressioni che ho avuto giocando a Mystery Dungeon per una settimana e ho trovato la risposta del perché io sia così tanto affezionato a Mystery Dungeon. Che dire fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate se siete d'accordo con quello che ho detto se invece volete fare dei piccoli appunti ricordatevi che parlo delle mie impressioni non fate come certa gente nel video di Zelda e ascoltate le mie parole. Ma tanto so che non succederà perché verrò frainteso e mi beccherò la merda da gente come boh Fabio. Buona signori vi ringrazio per la visione spero che il video vi sia piaciuto se così vi invito a lasciare un like un commento un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività di fuori dal canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. dettoci ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video.